Buona domenica, buon viaggio da Firenze Smart, bentrovati, Mauro Ciutini in studio. Il traffico scorre regolare in questa mattina su strade e autostrade della Toscana, siamo nel primo weekend che riguarda l'esodo estivo, sono interessati maggiormente dell'incremento del traffico il raccordo autostradale Firenze-Siena, la statale 1 Aurelia e la statale 223 tra Siena e Grosseto. C'è un veicolo fermo sulla 1 tra Firenze Sud e Incisa Reggello in direzione Roma, altro veicolo in difficoltà, l'interporto toscano Ovest in uscita da Firenze. Per quanto riguarda i treni, il 6143 Castelnuovo Pisa viaggia al momento con 55 minuti di ritardo. Ed è tutto per il momento, Mauversi in Toscana è realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana, Comune di Firenze, a più tardi. Grazie. 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 Grazie.